Carle Eugenio Lopedote si conferma al timore dell'ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La sua lista ha ottenuto 173 voti contro i 149 della lista beta. Il mandato dura da 4 anni, quindi fino al 2016. Soddisfatto Lopedote che ha spiegato che il Consiglio di 9 membri si riunirà ai primi di gennaio, quando verranno assegnate le cariche. Gli obiettivi dichiarati sono principalmente due, e la tutela degli iscritti e l'affiancamento dei giovani nella professione in questo momento di crisi.